... Bravo De Santis, da ex Jumentino hai deciso di fare anche questo, va beh, succede, succede, bo bo... Blackout Roma che si ferma, i giocatori della Roma si fermano per un presunto fuorigioco. Noi abbiamo sbagliato a vendere Benatia, io l'ho sempre detto che la Juve è un passo più avanti di noi perché ha la difesa più forte, se ti criticano Chiellini, Scarso, ma vengono di Chiellini lì in mezzo. Florenti scappa via Benuso, Florenti, palla dentro, Paolo Cannavaro riesce a pulire l'area. Roma, non fare così, ancora Roma, io non vengo più, due volte che vengo ma due prestazioni, ci sta a perdere, ma due prestazioni della Roma, se dovessimo vincere una partita così, ve lo dico, vinciamo il campionato. Esplodi, non vincere. No, vinciamo il campionato. Se finisce che vince la Roma, ve lo dico qua in dire, vinciamo il campionato. Anche un parigino va bene, eh. No, 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 io sto dicendo che se dovessimo vincere, è fatta, come dice Gambaro. È fatta. Anzi, come disse Gambaro, è fatta la Mosca, è fatta. Mi sembra che la Roma... Guarda, ho perso tre toni di colore questa partita qua, veramente. Lo guardi, non lo guardi, girati. Non lo guardo, non lo guardo, non lo guardo. Girati, non è che c'è il monitor pure lì. No, no, non lo guardo, non lo guardo. Tensione, controllo, a piedi. Allo smartphone, allo smartphone. Girato, non vuole guardarlo perché... Sono anche a dieta, se lo sbaglia mi rimetto a mangiare. Sì, 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 ufficiale. Centrale, due a uno. No, il gol, è terribile. Di una bruttezza. Andiamo, andiamo. Il pareggio. Non succede, ma se succede... Della Roma, con gli Aic. Non succede, ma se succede... Della Roma, gli Aic. Due a due. All'arrembaggio, all'arrembaggio. All'arrembaggio. Però già un passo avanti che... Nangolano. Non è finita come a Mosca. Florez, finisce due a due. Accontentati, Scandroio, accontentati. Atteggiamento da rivedere. Bicchiere, secondo me, tre quarti vuoto proprio. Della Roma, con gli Aic. Continua. Un passo avanti. Un passo avanti. Vià...